La Nuova Gorizza Il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, la Camera di Commercio della Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Udine, la piattaforma rappresenta una consolidata vetrina della miglior danza che mette in contatto le compagnie nazionali con il mercato e i professionisti italiani ed internazionali dando visibilità alla scena italiana nel rispetto della pluralità di linguaggi e poetiche. All'edizione di quest'anno parteciperanno 16 compagnie che presenteranno altrettanti spettacoli provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia e che sono state selezionate da una commissione di esperti italiani e internazionali fra le 79 che si sono proposte. Da segnalare in particolare la compagnia friulana Area Area con lo spettacolo Le quattro stagioni From Summer to Autumn di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, uno spettacolo di grande spontaneità e freschezza che ha debuttato allo scorso Mittelfest in una versione urbana e che ora vive la sua versione teatrale. Tra le diverse proposte per la prima volta saranno inoltre presenti due spettacoli dedicati ad un pubblico di bambini e ragazzi. Il ricco programma è integrato ad uno spettacolo ospite scelto tra i più rappresentativi del panorama italiano. Debutta infatti a Gorizia la nuova produzione di Ater Balletto composta da due coreografie firmate rispettivamente da Cristiana Morganti e Hofesh Schechter. Gli spettacoli saranno ospitati in tre teatri e cioè al Verdi, al Culturni Center Loizze Bratuz e nello storico Palazzo De Grazia. A margine della rassegna nel complesso museale di Santa Chiara saranno ospitate tavole rotonde e incontri tra artisti e operatori.